Tutela del patrimonio e passaggio generazionale. Sono stati questi i temi ed il titolo del convegno tenutosi a Molfetta e organizzato dall'Associazione Interprofessionale Alfa in collaborazione con il Rotary Club. C'era per noi Francesco Rossi. Perché questo incontro? Questo incontro verte su un tema che è molto sentito da parte dei cittadini, non solo, ma anche degli imprenditori e quindi noi riteniamo che sia giusto informarli su questi istituti e soprattutto sull'andamento della giurisprudenza e legislativa che sta perpetrando una serie di attacchi seri nei confronti di questi istituti, ma che con la tenacia che è tipica nostra di poter patrocinare gli interessi davanti alle sede giudiziarie e soprattutto in sede di legittimità c'è una buona possibilità di poter tutelare gli interessi dei propri beni appartenenti al nucleo familiare e imprenditoriale. Perché la tutela del patrimonio viene messa in relazione al passaggio generazionale? Perché a volte gli strumenti che vengono utilizzati per il passaggio generazionale e per la tutela del patrimonio coincidono. Ad esempio l'Istituto Principe è quello del Trust che illustrerò questa sera ed è uno strumento che permette da un lato di proteggere il patrimonio e la protezione è proprio uno strumento, un effetto utile per il passaggio generazionale. Se il patrimonio non è protetto non potrà essere passato ai propri discendenti. Perché mettere insieme avvocati e commercialisti? Non solo avvocati e commercialisti ma anche i rotariani, quindi la società civile. Noi come associazione Alfa siamo nati proprio per questo, per superare i nostri individualismi e cercare di metterci insieme per seguire a tutto tondo i clienti.